Nicole lascia Alex o la band? Ecco la versione di Saul. Io non posso più continuare così. Ma stai lasciando la band? O stai lasciando me? Alex e Nicole non si lasciano, perché è uno scherzo. Quindi erano tutti d'accordo? Gli Alex e Nicole sono più forti che mai. Infatti partono per un tour. Ma c'è un problema. Partono in un tour con le Lindas? Esatto. E poi c'è il naufragio. Nel senso che litigano tantissimo? No, no. Naufragio nel vero senso della parola. Si ritrovano su un'isola deserta. Come Robinson Crusoe? Come tanti Robinson Crusoe, le hai presi con le Lindas. La salsatina non fa bene ai capelli delle Lindas, credetemi. E nemmeno la voce di Emma. Infatti la perde. Ma come? Non ha senso. E infatti è tutto un sogno. Di chi? Di Clio? No, di Alex. Ma non preoccupatevi. È solo una possibilità. Perché tutto può ancora accadere. Ma stai lasciando la band? O stai lasciando me? In secondo voi gli Alex e Nicole finiranno davvero su un'isola deserta? Scrivetelo nei commenti qui sotto.